Sto arriccando qua di nuovo perchè devo fare una partita su fortnite che devo registrare in effetti non so sentire niente perchè non so come collegarvi le cuffie di telefono perchè sto registrando dal telefono e quindi non so come fare però vabbè non facciamo un po' di singolo ma io ho troppo che non si vede tutto a scatti come l'altra non fuori a fare le missioni almeno dovevamo fare 10 kill almeno o al minimo 10 kill come massimo almeno 360 ma quello là sono altri piccoli dettagli poi dopo cambieremo skin e metteremo un'altra e se arriviamo a 5 likes ho fatto tutto il pass che l'ho quasi finito e manca pochissimo quindi ho fatto tutto il pass qua skin belle non mi piacciono tanto quindi meglio non compriarle spero che mi sentiate ma devo arrivare almeno a 10 minuti di video perchè se ragazzi qua cosa si fa? si vedrà un po' maluccio ma non so cosa farci non so come registrare con l'altro coso quindi uso questo ah iscrivetevi a creare la campanellina non ho ancora il supporto a creare però voglio avercelo quindi vediamo la campanellina sono un po' scarso e la sono piccoli dettagli ma andiamo non delle tali andiamo a lande delle tali ma poi c'è un amici che stanno giocando per cose ti amico forle ah infatti iscrivetevi al mio canale se volete un altro video arriviamo a 3 mi piace come gli iscritti che ho che merda non so se andare solo a casa o nel capannone mi sa che vado da nessuna parte vado benissimo ok una kill del pompa ora speratemi se volete che pusho oppure no poi da burlare perché se no non mi sentite quindi allora sono sognato di fare lo youtuber di avere tanti iscritti prendere i soldi a parte le cagate però ok è ancora di evil c'è un video un'idea non ha funzionato ogni tanto sentite delle parole sono i miei genitori sotto che parlano un'avombra un'avombra Non andare in safe, a parte che anche se prendo dei danni, due kill all'anno letali, spero di aver fatto bene a lasciare quel pompa. C'è gente? Sì, c'è gente lì, quindi vattene qua e inizio a spawn a buildare. E un andato. Ok, il sgaro. Se mi tirano un attimo, sto mai diretti qua. Ok. 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 e che c'è qualcuno che ha imparato qua dentro se c'è qualcuno che ha imparato qua dentro lo scopo subito non ho parlato in giù i fondi 35 devo arrivare almeno i 50 sento qualcuno che sta arrivando se non mi spara gli sparo anch'io se non mi spara gli sparo anche io che cos'è sta roba boh vabbè aspetta che non ho mai capito come cazzo si fa prendere questa cesta devo andare lo spacco così ma che una due ci ha battito quindi ora corri verso di là ok sono fottuti ok sono morto sono morto no è morto dalla safe con 5 kill no dai 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 no dai che barba dai avevo 5 kill e sono morto dalla safe e che pizza facciamo un'altra partita per post potrei già smettere potrei già smettere ora ci vediamo nel prossimo video vi ricordo di iscrivervi mettere un mi piace accendere la campanella dopo che vi iscrivetevi e alla prossima posso direvi solo questo questa brutta è stata abbastanza bella se non fossi morto dalla safe chissà cosa sarebbe successo ma ci vediamo nel prossimo video bella no quel bella è bruttissimo ciao